buon pomeriggio a tutti voi grazie ringrazio sempre tutte le persone che mi seguono e che mi seguiranno in futuro e vi ricordo di attivare la campanellina di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così non perdete le pubblicazioni che io farò oggi facciamo lo scaldacollo infiniti io per realizzare questo scaldacollo ho scelto come il filato il filato mirage dell'atria film che troverete sul sito www.mercediafraia.it io poi vi lascerò il link diretto al filato così voi potrete scegliere tutti i colori che vi piacciono di più io ne ho utilizzati quattro tonalità allora questa è una tonalità il color mattone un pochino più chiaro i gomitoli sono da 50 grammi per 125 metri e sono 55 per cento lana 45 per cento acrilico e l'uncinetto consigliato è l'uncinetto del numero 4,5 io però il progetto l'ho lavorato tutto con l'uncinetto del 4 perché ho provato per la mia mano andava bene l'uncinetto numero 4 ho preso quindi questo colore un govidolo per colore poi ho preso questo beige un pochino più scuro e poi ho preso questo un pochino più chiaro quindi praticamente ho preso tre tonali una gradazione di rettonalità e comunque per realizzare questo scaldacollo questo è quello che è avanzato quindi con tre gomitoli ci vengono bene due scaldacolli poi dipende da voi se volete farli se volete farlo più alto più largo se volete farlo come uno sca un coprispalle io vi do l'idea ma a secondo le catenelle che voi avvierete uscirà il progetto io per questo scaldacollo ho avviato 90 catenelle quindi adesso abbiamo le catenelle poi vi faccio vedere allora questo modellino di questo scaldacollo cambiando i colori può essere tranquillamente un progetto unisex quindi uomo donna logicamente per uomo non farete questa rifinitura ma soltanto un giro di punto basso per una donna fate questa rifinitura a ventaglietti il punto che ho scelto è ripeto molto semplice perché va bene sia per uomo e donna che è due ma due giri a maglia alta alternato a un giro di punto rete e ogni di ogni colore ho fatto tre giri come ripeto 2 a punto alto 1 a punto rete io sul campione avvierò meno maglie ossia meno catenelle ne avvierò soltanto 30 mentre sul pezzo originale come vi dicevo ne ho avviate 90 quindi una volta avviate le vostre 90 catenelle chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima in questo modo poi lavoriamo tutto un giro appunto alto quindi 3 catenelle che la prima maglia alta e poi in ogni catenella facciamo una maglia alta quindi fate tutto il giro e ci rivediamo qui a fine giro per farvi vedere come realizzare l'infinito allora siamo arrivati a fine giro se in questo caso noi dovremmo agganciarci sulla prima delle tre catenelle e chiudere il giro e lavorare in tondo invece noi cosa facciamo voltiamo in questo modo carichiamo il filo e proseguiamo nel lavorare i punti alti quindi lavoriamo tutti i punti come si presentano in questo modo punto su punto e andate avanti lavorando così fino ad arrivare a fine giro allora noi siamo partiti con 90 catenelle adesso da questo giro dal secondo giro in poi non lavoriamo più 90 catenelle ossia 90 maglie alte ma bensì ad ogni giro ne lavoriamo 180 perché praticamente lavoriamo sia la parte inferiore dello scaldacollo che la parte superiore man mano che andiamo avanti con i giri quindi avremmo gli stessi giri da un lato e dall'altro quindi andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare all'altro lato per dare questo effetto infiniti a questo scaldacollo che come ripeto può essere uno scaldacollo può essere anche un coprispalle uno scaldacuore e evitiamo ogni tipo di cucitura in questo con questo modello quindi non abbiamo nessuna cucitura e si come ripeto ho cambiato il filo ogni tre giri ho alternato due giri di punto alto ad un giro di punto rete per tutto il lavoro e ad ogni colore che ho messo ho lavorato tre giri quindi ogni tre giro ha cambiato il colore ma ripeto i colori potete sceglierli sceglierli tranquillamente voi anche perché il filato mirage che io adoro a un 35 credo un 35 colori disponibili quindi vi potete sbizzarrire come meglio credete poi come ho detto vi lascio il link diretto così andate direttamente nel sul filato e da lì potrete vedere tutti i filati i colori poi se avete bisogno potete contattare direttamente flavia e lei e vi darà tutte le indicazioni di cui avete bisogno siamo arrivati a fine giro e adesso andiamo a chiuderci sulla prima delle 3 catenelle con una maglia bassissima e proseguiamo in questo modo e vi viene l'effetto che io ho dato allo scaldacollo adesso io faccio qualche altro giro su questo campioncino e poi vi faccio vedere quindi in questo momento abbiamo fatto un giro di punto alto sia sulla parte sopra che sulla parte sotto facciamo il secondo giro di punto alto e poi passiamo al punto quadretti siamo arrivati a fine giro e ci agganciamo sulle tre sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro con una maglia bassissima in questo modo come potete vedere abbiamo lavorato sia i due giri dalla parte inferiore e sia i due giri sulla parte nella parte superiore contemporaneamente quindi adesso arrivati a questo punto se volete fare tutta tinta unita andate avanti se volete fare come me abbiamo fatto i due giri facciamo il terzo giro appunto quadretti e poi cambiate colore quindi io faccio le 3 catenelle le 2 catenelle rientro e maglia alta questa mi equivale come prima maglia alta una catenella salto un punto vado nel successivo e maglia alta catenella salto un punto e maglia alta e praticamente io adesso sul campione avevo avviato 30 catenelle però le 30 catenelle al secondo giro diventano 60 e per tutti i giri avvenire saranno sempre 60 catenelle sul pezzo originale che erano 90 dal secondo giro in poi anziché 90 ne lavorerete 180 quindi andate avanti in questo modo per l'altezza che desiderate qualsiasi punto potete tranquillamente lavorare logicamente dovete rispettare il multiplo e potete dare spazio alla vostra fantasia quindi cambiare colore campiare cambiare punto fare lo scaldacollo fare un coprispalle fare un uno scaldacuore quello che voi desiderate fare quindi anche in questo caso spero che io sia stata abbastanza chiara nel farvi vedere vedete sul campioncino è esattamente come il pezzo originale quindi anche questo può essere un'idea regalo per il natale che con due ore lo fate tranquillamente spero di essere stata chiara le spiegazioni e se avete problemi io ci sono sempre detto questo vi auguro una buona serata e noi ci vediamo in un nuovo tutorial